Sarà un'aternata elettorale particolarmente impegnativa per la provincia di Belluno l'8, il 9 e il 10 giugno prossimi. Le urne saranno aperte per un doppio appuntamento. Il rinnovo del Parlamento europeo l'8 e il 9 e le amministrative il 9 e 10. Nel bellunese più della metà dei comuni, 31 per la precisione, saranno chiamati al rinnovo, 6 con popolazione fra i 5 e i 15 mila abitanti, 25 con popolazione sotto i 5 mila abitanti. Alimana, Longarone, Ponte nelle Alpi e Sedico, i sindaci attuali sono al secondo mandato e i rispettivi primi cittadini, Milena De Zanetta, Roberto Padrin, Paolo Vendramini e Stefano Deon, fino a poco tempo fa pronti a fare le valigie, sono in attesa di sapere se prenderà forma il decreto per ora solo in bozza che è approdato alla Consiglio dei Ministri che prevede la possibilità del terzo mandato per i primi cittadini dei comuni sotto i 15 mila abitanti. Il tema non si porrà a Borgo, Valbelluna e Santa Giustina, dove Stefano Cesa e Ivan Minella si apprestano a concludere il loro primo mandato ed è probabile una loro ricandidatura. Nessuna regola di mandato invece nei restanti 25 comuni al voto che sono Agordo, Alleghe, Arsie, Calalzo, Chies dal Pago, Cibiana, Comelico Superiore, Danta, Domegge, Lavalle Agordina, Livina Longo, Lorenzago, Ospitale, Pedavena, Perarolo, Roccapietore, San Nicolò Comelico, San Pietro, San Tommaso, San Vito di Cadore, Santo Stefano, Seren del Grappa, Taibon e Vallada Gordina. A rinnovo anche Quero Vass, confluito nel nuovo comune di Setteville dopo il referendum che ha decretato la fusione con Alano di Piave.